Dice ma è poi caduto nel 1453? No, è solo venuto un altro imperatore, il sultano Maometto II ha immediatamente provveduto ad aggiungere un titolo, lui era già il sultano, lo Shah, il protettore dei luoghi sacri, il califo, è diventato anche Kaiser Irum, Cesare di Roma e ufficialmente i sultani ottomani hanno continuato a dire ai loro sudditi noi siamo gli imperatori romani. Sediamo qui a Costantinopoli, capitale dell'impero, che altra prova vorreste? Di questo, mentre da un'altra parte, un'altra potenza imperiale, quella russa, che rivendica a sua volta l'eredità di Costantinopoli e quindi di Roma, per cui Mosca è la terza Roma. E come disse Ivan il Terribile, due Rome sono cadute, ma la terza Mosca sta e una quarta non ci sarà.